A Monta avventi il numero delle persone coinvolte nell'inchiesta Mafia Capitale e per le quali la Procura di Catania ha emesso il decreto di conclusione delle indagini. Al centro delle attività investigative l'appalto da 96 milioni e 900 mila euro bandito dal Consorzio Calatino, terra di accoglienza, per l'affidamento triennale del Cara di Mineo, il più grosso centro per i richiedenti asilo d'Europa. Ad emergere è il nome del sottosegretario all'agricoltura, Giuseppe Castiglione, accusato di turbativa d'asta e corruzione elettorale. A finire nel mirino della Procura anche i destinatari dello stesso decreto, Luca Odeven, ritenuto anello di giunzione fra la criminalità e la politica nell'inchiesta romana, Paolo Ragusa, ex presidente di Sol Calatino Coop Capofila dell'Appalto, Giovanni Ferrera, ex direttore del Consorzio Calatino Terra d'Accoglienza e Anna Aloisi, sindaco di Mineo ed ex presidente dello stesso consorzio. Ad incastrare Castiglione, alcune intercettazioni telefoniche di Odeven dove vantava di aver trovato un modo per ottenere il raddoppio del suo stipendio tangente da 10 a 20 mila euro al mese dai vincitori dell'Appalto. Dalle indagini, inoltre, è emerso il trucco che faceva sì che il mega-Appalto venisse sempre assegnato all'unico concorrente in grado di rispondere ai requisiti richiesti. Al raggruppamento delle imprese Casa della Solidarietà, infatti, è bastato presentare un'offerta con un ribasso dell'1% per garantire la continuità di una gestione in mano dal 2011. Grazie a tutti.